Questione di massima importanza, quella delle infrastrutture ferroviarie di Matera, sulla quale mette l'appunto l'onorevole Mariantezza del PD. Anche su mia sollecitazione, il presidente della regione, Marcello Pittella, ha promosso nei giorni scorsi un incontro con il ministro del Rio, insieme alla sottoscritta, promotrice della risoluzione sul tema in Commissione Trasporti alla Camera, e al senator Margiotta come componente della trasmissione Trasporti al Senato. L'incontro, spiega, è stato finalizzato a richiedere al governo quanto già contenuto nella risoluzione, ossia da una parte il potenziamento della direttrice Taranto-Ferandina-Potenza-Salerno-Napoli-Roma con materiale rotabili a V, ribadendo la volontà della regione di farsi carico insieme alla regione Puglia del relativo costo. Importante il punto discusso durante l'incontro sul completamento della linea ferroviaria Matera-Ferandina-La Martella, la quale non sembra essere stata affidata alle FAL Ferrovie Appolo-Lucane.